La cerimonia di graduation dell'ottava edizione dell'Executive MBA della Sdabocconi School of Management. E' la tua incertezza. Abbiamo fatto la missione alla Scuola di Magia. Riffondolo? Sempre verde. No, sempre verde. Bene, questi valori, che sono i valori del merito, il valore della solidarietà, il valore delle competenze, il valore del servizio per l'istituzione che serviamo, sono i valori che oggi sono necessari e sono i valori su cui fonda la nostra istituzione. Io credo che poi alla fine un altro elemento fondamentale sia la passione. Quindi questi sono i nostri valori e per coloro che vi credono e che continueranno a credervi lungo la propria vita, questo è sicuramente motivo di appartenenza. Abbiamo imparato rapidamente a priorizzare e a focalizzarci sull'essenziale. Abbiamo appreso cosa ci interessa e dove trovarlo. Ascoltare gli altri quando penso, dire ciò che penso, fare ciò che dico e controllare ciò che faccio. L'edizione 2010-2011 oggi si chiude. Al prossimo episodio